il il l'e l'arra e' che è il suo il suo ok tutto ora poi siamo qui per fare un pezzo cioè un pezzo forte ok vorremmo fare un pezzo che noi avevamo dedicato precedentemente in questo tempo e' vero che abbiamo dedicato alla nostra amica per il suo copre anno ok la mia prima che si chiama Linda Cusinelli ok dateci tempo di prepararci 1 2 1 2 3 4 oggi più figli anni la Cusinelli siamo qui per augurarci giorni proprio belli queste quattro note sono perfette per fare risaltare le tue grandi tette poi questa rile se lo farà per molti anni ma anche lei e' negli stessi panni ok ciao fratelli Alla prossima! Ok, mi amo! Grazie a tutti!